Grazie per la fase Tutti i confronti c'erano i suoi schermi Sì, anche per la fase C'erano un cerno che c'erano un cerno che... Secondo me è spado il cuore C'erano un buon cuore C'erano un buon cuore C'erano un buon cuore Arriva, tanto esco subito Tanto esco subito Ministro, un attimo qua, un attimo, mi sono insieme tutta la mattina. Grazie, sono soltanto, queste sono le più importanti. Noi siamo sulla destra? No, sinistra. Un attimo, fermi lì un attimo, fermi. Madonna mia. Buongiorno, buongiorno. Il ministro delle infrastrutture per la sua presenza insieme alle istituzioni locali, nazionali e internazionali, i due paesi. Alcune cifre, abbiamo 12 cantieri attivi, tra Canna fino a Susa, la parte ascendente verso la Francia per la realizzata tradizionale. Bello calciato? Bello calciato. Ministro. Ministro, ci guarda, ministro. Di qua? Di qua, di qua. Ma li pulite.